Sì, anche io ho avuto un periodo che ritagliavo tutte le cose per fare colpa e poi l'ho fatto perdere, perché sono anche tecniche vecchie, anche quelle. Sì, però se le abbigna ad altre cose. Guarda che c'è gente che è un genio a fare il collage. Oh, mi sono scusate, mi sono scusate. Non dici niente, Susi, non parli? No, non parli. Sì, scusate, ho scusato, ho scusato la linea. Ok, perfetto. Sto pensando a cosa scriverci un mancino, potrei scriverci qualcosa? Ecco, continuo la mia passeggiata. Qui ci sono gli abiti, tutti prezzati, pronti, se ti desidero. Poi, qui ci sono ancora due pomodri, uno e due. Questo non l'ho mai visto, Francesca, è caro. Qui ci sono le scarpe pinte. Qui abbiamo le borse dipinte. Poi, proseguiamo. Qui ce n'è un altro famoso dei rinari verdi. Qui? E diceva chi le identifichiamo il secondo senso. Ah, e la tesi della tesi, la tesi, la grande domanda che si va a fare, perché la tolghi l'occhio. Ecco, donne si nasce o si diventa? Ecco, c'è la stanza principale, che secondo me è il prezzo forte della galleria. Qui c'è un quadro. Qui ce n'è un altro, questo è il bozzetto, questo è il lavoro finito. Poi ce n'è un altro qui. Poi ce n'è un altro qui. Qui c'è una serie di quadretti di vario genere. Qui c'è ancora un quadro. Qui ce ne sono una serie. Qui ce n'è un altro. Il famoso nell'uso di Francesca. Qui c'è un cappotto dipinto. Qui c'è un altro quadro. Ecco, e poi facciamo così, vi faccio vedere la stanza. Così, eccola qua. E lì. Bello. Carava Franceschina. Ok, qua un bari costiglio dove lei mette le sue cose. Così. Qua tutto per mettere via le sue cose. Qui c'è il suo bagnetto. Qua c'è il suo bagnetto. Bene, mi pare di aver fatto vedere un po' tutto. Ah, qui c'è un altro posto. Questo è un altro trattamento. Qua ci sono le famose foto di Franci. Qui ha una stanza. Aspetta che vi accendo la luce. E vi dico, qua ancora vestiti. Qui ancora quadri. Quadri.